Raga vi giuro, ho riflettuto tanto su come darvi il saluto, ma ho avuto seri momenti di crisi, ho avuto tipo un mental breakdown della luna Ok, allora facciamo così, faccio passare due minuti Ti calmo Vorrei anche bypassare le presentazioni nel senso che, boh, mi sa di cafonata, ciao tutti sono Silvia Non lo so, non mi piace Io sono Silvia, ci si sente Allora, oggi parliamo di beauty bufale, ovvero banalmente No, 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 non parliamo di bacche, parliamo di fake news Le fake news ci circondano ragazzi, sono ovunque dietro, di lato, in basso, anche dove non te le aspetti ci sono E nella cosmesi sono veramente innumerevoli E' chiaro che ci sono cose che se non conosci ma senti solamente dire un po' preoccupano E' chiaro che tutti ci teniamo più o meno alla nostra salute Io personalmente, insomma, sono una che prima della vanità mette, sì dai, metto la salute perché è troppo importante Per questo di base sono una che le beauty bufale scansa Ma nel senso che mi piace l'idea di informarmi io Senza stare a sentire quella mia cugina concettina che mi dice che quella cosa fa male perché la letto sul cioè Non mi piace, ho più senso critico di così Ben prezzo scoprirete che sono una vera rompicoglioni No, beh, non è vero, solo un po' forse Ma comunque, tornando a noi, oggi si parla di siliconi Siliconi sono demonizzati da tantissimi Io ho veramente, ho assistito personalmente a delle faide, delle guerre sanguinolente tra nazi, vegan e feticisti della plastica Guerre fino all'ultimo colpo che in realtà, come dire, sono un po' guerre che non hanno senso Nel senso che la cosa che conviene fare prima di scegliere una fazione così perché il nome siliconi mi ricorda, non lo so, il nome di un ex e quindi non mi piace Cioè, scegliamo dei concreti motivi per avere un'antipatia verso un povero composto chimico Un povero componente chimico Quindi, basiamoci sui fatti I fatti sono esattamente quattro, ragazzi Sì, quattro fatti semplici caratterizzanti Prima cosa Qui monterò tipo un uno che fa Una Prima cosa Sono idrorepellenti Questa è la caratteristica principe Nel senso che questa è la caratteristica che gli dà delle qualità infinite, delle possibilità grandissime per essere utilizzato Idrorepellente, idrofobico, come volete dirlo, ditelo Significa essenzialmente che l'acqua non può né scendere né salire Una citazione un po' per pochi Nel senso che l'acqua non trapassa Non viene attratta, non viene spussa, non passa le destra, la sinistra è proprio C'è proprio un divieto d'accesso Mettiamola così Il che è il punto che fa incazzare tantissimi Seconda cosa Due Due Sono composti fotostabili Questo significa che la luce non li altera in alcun modo Stesso discorso per la cosiddetta Ossidabilità Non sono soggetti ad ossidazione E in ultimo Sono composti che chimicamente vengono definiti inerti Ovvero non partecipano Non scatenano Non fanno parte mai di reazioni chimiche Quindi sono molto Sono i pacifisti della chimica Essenzialmente Di fatto in cosmesi vengono utilizzate due tipologie di siliconi Alcuni più pesanti e alcuni più leggeri Un esponente Un grande Il presidente proprio Il CEO Dei siliconi pesanti E il dimeticone Viene utilizzato veramente spessissimo E viene definito pesante Perché è uno di quei tipi di siliconi Che creano le barriere Che hanno proprio dei film Dei muri Come dire Sì, barriere è la parola più giusta Barriere tra la pelle e l'esterno Essendo come dicevamo prima Idrorepellenti L'acqua non le scioglie Quindi se ti arriva acqua L'acqua non rimuove questo strato E l'acqua che noi produciamo Che desidera fuoriuscire dalla nostra pelle In realtà Non può farlo Questo scatena un fenomeno Che viene definito Idratazione passiva Che non è una brutta cosa Non è un male in realtà Questi sono i classici siliconi Utilizzati nei primer Sono utilizzatissimi anche nelle creme solari Quelle che vengono definite Guarda caso Insolubili in acqua Ci sarà un collegamento chimico? Non lo so L'altra tipologia Cioè non ci posso credere Questo è il mio primo video E già ho la batteria scarica Faccio cacare L'altra tipologia È quella di quelli leggeri Altri si detti volatili No, non sono uccelli Il ciclopentasilossano È anche qui Il capostipite Di quelli volatili Nel senso che sono Come definirli? Volatili Cioè non restano sulla pelle Ma evaporano Spariscono E vengono utilizzati Vengono sfruttati Schiavizzati Dalle aziende cosmetiche Perché non hanno Ovviamente Come tutti i siliconi Nessun principio attivo Ma hanno delle caratteristiche tecniche Fanno sì che quindi Venga conferito al cosmetico di turno Che sia una crema Un shampoo Quello che è La setosità Della texture E spesso Hanno l'importante funzione Di smorzare l'oleosità La critica Che viene mossa Verso i siliconi E che questi Siano occludenti Che non facciano Traspirare la pelle È un vilipendio Nei confronti Dei siliconi Perché in realtà I siliconi Con questa barriera Di macromolecole Di macromolecole Hanno tra le molecole Dei spazi Abbastanza grossi La pelle respira Perché comunque Non vi è una barriera Fitta al 100% Ma c'è comunque Uno scambio con l'esterno Molto inferiore Rispetto a quello Che ci sarebbe Se non fosse usato Il silicone Ma c'è Il comitato scientifico Di cosmetologia Della comunità europea Ha definito Ha studiato E ha definito I siliconi Come Dermocompatibili Quindi Non dannosi per la pelle Non irritanti E non sensibilizzanti Qualora qualcuno Possessi trovato Ad avere dei problemi Con dei prodotti Che contengono siliconi È più probabile Che abbiano avuto Problemi Con elementi Che fanno parte Propriamente Del prodotto È improbabile Che siano Proprio i siliconi Questo è quanto L'unica critica Che mi sento Di muovere Ai siliconi Come categoria È la scarsa Ecocompatibilità Si parla di prodotti Inquinanti Il fatto che non siano Solubili in acqua Fa sì che Nei prodotti A risciacquo Questi non si dissolvano Mai nell'acqua E quindi inquinino Di fatto Parole spiccele Inquinano Questa è l'unica cosa Che merita Una critica Tuttavia le leggi Si stanno sensibilizzando Al riguardo Si sta cercando Di smorzare il problema Perché in realtà Non si è trovato Un'alternativa naturale Tanto performante Quindi Si vogliono ancora usare Perché Sono eccezionali Su certe cose Però Oggettivamente inquinano Per cui Per quello che ho letto Fino a poco tempo fa È stata introdotta Una legge Che verrà Mandata in vigore Insomma Sarà in vigore Da gennaio Di quest'anno Da gennaio 2020 Che dice essenzialmente Che Nei prodotti A risciacquo La presenza Di siliconi Dovrà assolutamente Rientrare Nello 0,1% Questo è quanto ragazzi Questo è ciò Che c'è da sapere In linea di massima Su siliconi Tanto per far su Un'idea propria Questa è la mia opinione Aspetto la vostra Un bacio Un'idea propria